Quando loro andavano sulle strade, non c'erano molte auto, quindi potevano permettersi dei giochi di fantasia. E lo faccio sempre passare sulla città, cioè? Lo passava sempre sopra lui. Non potete partire? No, da via, da via, da via. E adesso parte il critico, vale a dire ambulanza, vigili del fuoco e ai soccorsi. E quando arrivano in un posto dove c'è l'incidente, non sanno com'è. E sono certo che entro domani un incidente fra loro, io me lo insegnerei. Allora, ultimi. Allora, ultimi. Allora, ultimi. E la vaca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quali? Grazie a tutti.